Dal 1997 il Club Shop offre soluzioni affidabili ed efficaci a chiunque desideri fortemente aumentare il proprio reddito mensile. Il Global Partner System o GPS è il mezzo che consente di poterlo fare per davvero. In Club Shop aziende e privati operano insieme per massimizzare i benefici di ognuna delle parti, creando sinergie mai viste prima d'oggi. Grazie all'insostituibile lavoro svolto dai propri partner, Club Shop è già oggi presente in oltre 70 paesi, conta milioni di soci e migliaia di aziende affiliate, tutti uniti nel perseguire la vera e unica mission del Club Shop, migliorare concretamente la vita del maggior numero di persone possibile, compresa la tua. Come affiliato Club Shop puoi intraprendere oggi stesso il tuo percorso e abbonandoti al GPS ti qualifichi immediatamente come partner. Potrai così lasciarti guidare nella costruzione di una solida rendita mensile, destinata a durare negli anni. Regalati la serenità che meriti, non aspettare oltre. All'interno del tuo Business Center Club Shop troverai sicuramente la versione GPS più adatta a te. E fidati di noi, perché la nostra mission è il tuo benessere.